Non è solo un problema di bilancio ingessato, causa debiti o di risorse che sarebbero venute a mancare. È l'amministrazione di Giuseppe Antonio che ha compiuto scelte contrarie alle aspettative delle imprese in provincia di Chieti, confidando in chissà quali improbabili regali della regione in futuro. A devinenziarlo con preoccupazione il consigliere del Partito Democratico, Angelo Radica. L'amministrazione provinciale di Chieti taglia per la prima volta tutte le risorse per le imprese. Erano risorse che venivano utilizzate per abbattere il tasso di interesse e per garantire l'accesso al credito. Nulla a che a vedere questo con i fantomatici debiti perché è un bilancio nuovo, quindi non c'è nulla, ma che può essere legato a questo. La verità è che un milione e mezzo di euro destinati alle imprese sono state tagliate, mettendo in grande difficoltà le imprese del territorio che vivono una situazione di livello quasi comatoso. Noi invitiamo l'amministrazione a tornare indietro perché le imprese del territorio hanno bisogno di queste risorse.